Musica Alle porte di Pavia un locale animal friendly Animal friendly quindi che accetta davvero gli animali Mi trovo con l'IA in questo locale che si chiama Smoky & Co Esatto Musica Come mai Smoky & Co? Siccome il locale è improntato sul discorso sport Ed è una sorta di sport bar grill americano È una stick house Abbiamo trovato Smoky Joe che è un famoso giocatore di baseball Abbiamo usato solo il suo cognome Ma Enco significa semplicemente il fatto che non solo lui Perché qua si trattano un po' tutti gli sport americani Per cui ovviamente il baseball ma poi anche il football L'hockey, il basket, tutto quello che è sport americano Infatti ho notato che ci sono veramente tantissimi quadri Ho visto anche una pallina da baseball firmata autografata Rigorosamente autografata Sì ci sono tutta una serie di cose che arrivano direttamente dagli Stati Uniti Che abbiamo preso noi o comunque ci siamo fatti portare Quindi la maggior parte di quello che c'è qua arriva direttamente da là Sì di qua un vegetariano Ci sono delle opzioni vegetariane C'è anche un hamburger vegetariano Che però è come gli hamburger di carne È fatto in casa da noi Quindi è una produzione propria E poi ci sono, non so, una serie di insalatone Tutta una serie di antipasti Per cui non è poco quello che può mangiare un vegetariano Cosa si porta solitamente a un cagnolino appena entra? Beh allora di solito Prima di tutto chiediamo ai padroni Se gli va bene il posto che gli assegniamo Perché la maggior parte delle volte Cerchiamo di dargli un posto che sia tranquillo per il cane Non per gli altri ospiti E poi gli diamo sempre la ciotolina d'acqua Insomma cerchiamo di fare un po' di attenzione Ma se dovesse arrivare un Terranova? Sì, se arriva un Terranova Ovviamente non lo mettiamo in mezzo ai tavoli stretti Anche se qua il locale è piuttosto ampio E lo spazio fra i tavoli ce n'è a sufficienza Però cerchiamo di dargli un posto in cui Appunto lui non venga disturbato dagli altri Perché poi ovviamente essendo un cane grosso Ha bisogno di spazio La posizione di questo locale è facile Nel senso che comunque siamo sulla Vigentina Per cui sia da Milano che da Pavia È una strada sostanzialmente dritta E oltretutto c'è il parcheggio Quindi in realtà dal punto di vista dello spostamento Non ci sono problemi Clienti con gli animali? Fammi una media Ma io direi che quasi tutte le sere ci sono animali Ti consegniamo il bollino dell'Italia di Artù Verrai censita nel nostro portale di Canegate TV Channel Lo applichiamo Andiamo ad applicarlo fuori Mi raccomando ragazzi Noi ci vediamo alla prossima puntata Sempre qui su Canegate TV Channel Ciao Ciao